Cari resistenti del canale del Comitato Fortitudo, abbiamo un'urgenza e ho bisogno estremo del vostro aiuto. L'ospedale di Pordenone si rifiutano di operare una signora anziana che ha un peacemaker e deve cambiare le batterie del peacemaker perché non vuole fare il tampone. Le hanno fatto una visita e hanno detto che può aspettare. Io ho parlato con la direzione sanitaria, adesso mi fanno chiamare dal dirigente, però è giusto che noi mandiamo la nostra mail per fargli capire in quanti siamo a chiedere giustizia. La mail è urp-asfo.sanita.fwg.it La peg è asfo.protgen-certsanita.fwg.it Ma ve le scrivo. Partiamo con le mail. Arafika Grazie Grazie Allora, noi abbiamo mandato sia la mail che la PEC, così non possono far finta di niente. Vi prego, continuate a mandare le mail, sono io che sto rischiando. Adesso ho parlato con la direzione sanitaria e vi farò sentire che cosa mi ha detto. Mi ha detto che sto rischiando perché li ho accusati di omissione di soccorso. Continuate a mandare le mail, continuate a mandare le mail. Non rischiate nulla. C'è scritto grazie a Piccinelli, presidente del Comitato Fortitudo. A me non interessa, io non ho paura di niente. Continuate a mandare le mail. Adesso è ora di finirla, direi. Io non ho paura di niente. Non mi interessa. So di essere dalla parte del giusto. Continuate a mandare le mail. Grazie. Non so se avete visto l'ultima che mi sono inventata che ho messo anche sulla lettera e che ho detto anche agli ultimi tre medici con i quali ho parlato. Ho fatto questa domanda. Voi avete fatto un giuramento di Ippocrate o avete giurato sulla circolare Schillaci? Non è male, dai. Grazie.